Terzo ultimo appuntamento del Moto Mondiale, il nuovo episodio dunque del Racing Podcast per il campionato derivato dai prototipi nel circuito di Phillip Island Australia che ritorna dopo i due anni di sospensione per pandemia in una pista che ha segnato un titolo del mondo e che tiene aperti ancora gli altri due e per una volta però partiamo dal titolo che è stato assegnato, quello della Moto3 perché Isan Guevara è il nuovo campione del mondo della classe entrante dopo una gara assolutamente dominata e gestita nel migliore dei modi per il 28 spagnolo che vince il titolo del mondo peraltro anche la gara al traguardo, una gara che vede i due soliti grandi protagonisti di questo mondiale Moto3 ovvero Sergio Garcia e Isan Guevara, compagno di squadra del team Gas Gas Spar Racing Team e poi anche Ayumu Sasaki e Denis Onku, tutti gli altri sono costretti di fatto a cedere le armi a questi quattro piloti che fanno gara di volata dal primo all'ultimo giro e alla fine il comandante Isan Guevara è il nuovo campione del mondo di questa categoria nell'ultimo anno peraltro di Moto3 del pilota spagnolo che andrà sempre per il team Gas Gas Spar Racing Team a correre in Moto2 l'anno prossimo, una gara veramente che consacra Guevara come uno dei piloti spagnoli più talentuosi evidentemente in questo contesto del campionato dei prodotti delle moto perché il lavoro di Marcia è stato veramente impressionante, aveva già un buonissimo margine di sicurezza in realtà il pilota spagnolo ma un conto è arrivare a vincere il titolo del mondo giocando se adesso semplicemente dietro a Sergio Garcia che era l'obiettivo minimo per questa gara per quanto riguarda Guevara, un conto è andare a vincere la gara che ti consacra campione del mondo, è stata veramente una prova di forza clamorosa per colui che ha letteralmente dominato il mondiale Moto3 dunque dopo il mondiale scorso dove Pedro Acosta dominò anche in maniera più schiacciante rispetto a Guevara, che vince, fai suonare la marcia reale a Philip Island e chiude appunto i giochi a due gare dal termine, 290 punti sono stati totalizzati per vincere il titolo del mondo al piloto del team Gas Gas che appunto ha la meglio su Sergio Garcia e tutti gli altri che prendono veramente distacchi enormi, Garcia fa quello che può e finisce terzo completando il podio della classe entrante di questa gara, il secondo posto invece è a pannaggio di Denis Onku che ha la meglio anche degli Umo Sasaki, abbiamo detto è stata una gara appunto a quattro piloti alla fine, i primi tre sono appunto il turco di casa Red Bull KTM Ayo, o meglio Tech 3, e i due piloti del team Gas Gas che sono sempre stati in realtà una spanna sopra a tutti gli altri contender, per un attimo sembrava che Denis Foggia e Umo Sasaki potessero entrare nella contesa ma alla fine il giapponese ha deposto le armi molto prima, ha comunque fatto una buona gara oggi in piatta di Usquarna finendo quarto, l'altro Denis Foggia ha fatto molti acuti ma anche molti bassi, quindi una stagione molto attreante che appunto lo relega appunto in una posizione di rincalzo anche rispetto a Sergio Garcia, va detto però che a mio modestissimo modo di vedere Isanghevara ha fantameritato questo mondiale perché un distacco così tanto elevato, due gara dalla fine appunto si è visto soltanto con Pedro Acosta e con pochi altri, quindi è sicuramente un buon viaggio questo mondiale vinto da Isanghevara, vedremo cosa farà l'anno prossimo in Moto2, comunque il mondiale Moto3 è assolutamente meritato perché parliamo di cinque vittorie, anzi sei evidentemente con questa di Australia più innumerevoli altri podi e risultati che almeno di ritiri clamorosi non sono mai stati appunto al di fuori della top 7, quindi un ruolo di marcia degno di un campione mondiale. L'anno prossimo Guevara e Garcia correranno in Moto2, si daranno battaglia con quel Pedro Acosta che ha dominato lo scorso mondiale Moto3 ma che in Moto2 ha vinto qualche gara ma che ha fatto più fatica, vedremo se sarà questo percorso uguale per il comandante Isanghevara oppure ci sarà un one and done, cosa per la verità sulla carta abbastanza complicata. Fatto sta che adesso per il mondiale Moto3, Malesia e Valencia saranno le gare che potranno semplicemente essere considerate come tappe singole e non in ottica del mondiale, a differenza di quello che succede in MotoGP e in Moto2 di cui andiamo a parlare. Dunque adesso arriva la parte più succosa del video, a cominciare dall'episodio più importante che ha capitato a Phillip Island nella nottata italiana, ovvero la caduta di Fabio Quartarro che già in questo inizio di gara australiana per Phillip Island aveva assolutamente un passo non così competitivo. Certo, era nei primi cinque ma non andava l'idea secondo me di essere di una marcia superiore come magari hanno fatto altri piloti che vedremo in questo contesto, inizialmente Quartarro si ritrova protagonista di un traverso che viene salvato dal suo pilota francese che però lo relega già nelle ultime posizioni ai margini della zona punti. Quindi appunto Quartarro perde la macchina, meglio la moto ovviamente, nella curva 4 di Phillip Island, rientra di fatto facendo un long lap in più e dunque si ritrova addirittura dietro il suo compagno di squadra Franco Morbidelli. Nella cercare di rimontare poi Quartarro all'ultima curva perde la moto e appunto questo è uno zero di fondamentale importanza per il mondiale perché Bagnaia riuscirà a fare più punti che poteva fare nel contesto di questa gara, ovvero fare podio e di conseguenza il pilota piemontese è il leader del campionato del mondo, anche se a vincere è un totale outsider, ovvero Alex Rins che nell'ultimo anno della Suzuki MotoGP si toglie la soddisfazione di portare la casa giapponese appunto alla vittoria in una gara che ha dimostrato come il pilota spagnolo è riuscito ad avere un passo superiore anche rispetto a Mark Marquez, reddivivo in questa gara, è lo stesso Bagnaia che aveva iniziato l'ultimo giro in testa con la Ducati che comunque rimane la moto migliore dell'otto MotoGP 2022. Alex Rins partiva decimo in qualificazione, in primo passo gara molto importante, si ricongiunge al gruppo di testa, c'è una volata alla fine sia con Bagnaia sia con Mark Marquez e alla fine il pilota di Suzuki che riesce a vincere ancora una volta, dunque c'è il trionfo per la casa giapponese che si ritirerà appunto al tema di questa gara per quanto riguarda la MotoGP ma una gara all'anno l'ha sempre vinta, ha vinto anche un titolo mondiale con Mir nel 2020 e adesso toglie la soddisfazione in un anno buio visto che parliamo di una scuderia ufficiale che non ha fatto grandissimi risultati quest'anno, di togliersi appunto questa grandissima soddisfazione con Alex Rins completa il podio Mark Marquez in seconda posizione ma terzo è Francesco Bagnaia che complice lo zero pesantissimo di Fabio Quartarò e il nono posto di Alessio Spargarò arriva a 233 punti in classifica a più 14 su Fabio Quartarò si va addirittura già a Sepang per potenzialmente chiudere il campionato del mondo e far sì che una Ducati torni a vincere dopo Casey Stoner Bagnaia dopo una rincorsa che è cominciata da Hassel, quindi prima della pausa estiva ha inallato una serie di risultati incredibili abbiamo detto, ha fatto il click mentale Bagnaia che ricorda il miglior top a ragazzetto ogro della Superbike ovvero un pilota quasi infermabile, molto a posto con la moto, quasi imbattibile mi verrebbe da dire in tutte le piste tranne Moteghi ma Moteghi poi ha dovuto fare una gara di rimonta e ha sbagliato lui, quindi quella caduta è effettivamente ancora oggi abbastanza pesante ma questi due terzi posti di Thailandia e Australia con Quartarò after the music in entrambe le gare sono veramente grasso che colla per il pilota piemontese che dunque allunga, o meglio, arriva per la prima volta in testa al campionato del mondo dopo che era sotto praticamente di 80 punti prima della pausa estiva ripeto ancora una volta, Bagnaia mi sta facendo ricredere è vero che non è un precedente così nuovo perché anche l'anno scorso quando Quartarò vince il titolo del mondo Bagnaia nella seconda parte di stagione riuscì tranquillamente a rimontare e a essere uno dei piloti più in forma in quello scorso di stagione, qui è la stessa cosa, con l'unica differenza che nell'anno scorso Bagnaia vinceva sporadicamente e faceva qualche podio con Quartarò che spesso gli era davanti qui è proprio il contrario, Bagnaia è sempre nelle prime tre posizioni Quartarò con una moto anche non così performante però non riesce più a metterci la pezza e effettivamente gli altri si vedono, quindi lo zero di Quartarò è sicuramente pesantissimo il nono apposto del Lecce Spargarò è comunque figlio di una moto non così all'altezza rispetto a queste Ducati fatto sta che adesso Bagnaia è primo a due gare dalla fine e appunto con determinate condizioni già settimana prossima in Malaysia Sepang si potrà chiudere il titolo del mondo MotoGP 2022 gli altri piazzamenti per quanto riguarda il podio abbiamo detto Mark Marquez che appunto anche quest'anno ha fatto una stagione tra l'infermeria e la pista riesce comunque ad annellare un podio anche qui con una pista che lo ha visto sicuramente protagonista è molto importante per il morale invece la vittoria di Alex Rins che ripeto non è l'ultimo arrivato perché parliamo di un pilota che ha fatto diversi podi quest'anno e anche negli anni passati non ha appunto avuto la possibilità di vincere il titolo del mondo con Suzuki perché la stagione corta vinse Hoamir con una maggiore costanza Rins invece questa volta ha meritato la vittoria sulla pista perché con un passo così importante è una rimonta così evidente era difficile giocarsela evidentemente con il piatto spagnolo che ricordiamo l'anno prossimo scenderà un attimo come livello di moto perché andrà a correre con la onda cliente del team di Lucio Cecchinello al posto di Alex Marquez Alex Rins comunque appunto è stato un grande outsider insieme a Marquez il primo dei titolati possibili al mondiale ovvero Bagnai ha fatto quello che doveva fare ovvero battere entrambi gli avversari grande vittoria comunque di Alex Rins che dunque potrà andare a Sepang e a Valencia con il morale sicuramente all'estene gli altri piazzamenti importantissimi per quanto riguarda la Ducati ma anche per i team clienti perché in quarta posizione abbiamo Marco Bezzecchi autore di un'altra grandissima gara il rookie del team Sky VR46 che nelle ultime gare si sta sicuramente confermando come un dei piloti più importanti anche per il futuro è un pilota che l'abbiamo visto con molti acuti vedi per esempio il pod di Assen ma comunque questa quarta posizione è veramente tanto significativa quinto post invece è per Enea Bastelini che fa una grande gara di rimonta Bastelini è praticamente fuori matematicamente per il titolo del mondo anche se ripeto come tutti i podcast che faccio sul moto mondiale non è un pod del titolo del mondo quest'anno né a Bastelini ma comunque da dodicesima quinta è sicuramente una prova di altissimo livello sesto è Luca Marini per un trionfo per il team Sky VR46 che a memoria fa il migliore usato di sempre da quando è stato creato ovvero quest'anno settima posizione per quanto riguarda la gara di Philippe Highland è per il pullman Jorge Martin che in qualificazioni si dimostra sempre il re del giro secco ma che in gara purtroppo fa spesso la gara del gambero e anche in questo caso è stato assolutamente così ottavo per quanto riguarda la gara australiana lo ritroviamo in Johan Zarco stesso discorso praticamente per il pilota francese rispetto a Martin con un'unica differenza che Zarco ha fatto il giro veloce nelle prime tornate di gara anche se poi non concordizza spesso il pilota francese nono è appunto quella lecce Spargaro di qui sopra e anche Spargaro è con piede fuori dal titolo del mondo anche se automaticamente nelle due gare che rimangono ha ancora delle chance ma dovrebbe fare sicuramente risultati di un certo peso che di certo non sono la nonna posizione chiude la top 10 per quanto riguarda la gara di Philippe Highland Brad Binder che di fatto conferma il risultato della Thailandia tutti gli altri sono appunto con punti marginali o after the music in particolare gli altri italiani con Fabio Di Giannantonio che finisce ventesimo con Morbidelli che si ritira a compice una debacle della Yamaha ufficiale in generale segno che ancora una volta è Quartaro che ci mette una grandissima pezza sulla casa dei Tedriampo e non la moto competitiva e gli altri appunto sono a fili tutti a punti o appunto non erano presenti per esempio Petrucci che era presente nella scorsa gara in Thailandia a sostituire appunto Juan Mir infortunato ma che comunque è rientrato in questa gara in dittesima posizione due gare al termine mondiale MotoGP molto molto aperto con 14 punti di stacco tra Bagnaia e Quartaro mondiale Moto2 invece ancora più aperto anche se va celebrata la vittoria di Alonso Lopez che ricordiamo è un rookie entrato in corso di campionato alla settima gara stagionale al posto di Romano Ferrati che è stato appiato dalla speed up e è stato appunto preso Alonso Lopez che correva già nel team nell'europeo Moto2 e appunto è arrivato già a fare quattro podi totali e due vittorie questa è veramente una vittoria significativa perché Alonso Lopez è scostretto a fare un long lap penalty per il responsible riding durante le prove libere 1 Alonso Lopez però riesce a imprimere un passo talmente superiore che riesce a fare il giro di penalità finendo addirittura davanti ai suoi diretti avversari cosa che non succede spesso quando si affronta questa penalità Alonso Lopez poi continua nel suo passo martellante e domina la gara di Moto2 senza se e senza ma e dunque ancora una volta nelle tre categorie della MotoGP suona per tre volte la marcia reale perché suona anche per il pilota con il numero 21 del team speed up Alonso Lopez è addirittura ottavo in classifica generale con appunto tantissime gare in meno perché ricordiamo che l'esordio è avvenuto a Le Mans è la seconda vittoria per Alonso Lopez dopo quella di Milano Adriatico grandiosa vittoria per il morale del 21 che attenzione sarà uno dei potabili contendenti a titolo del mondo per l'anno prossimo seconda posizione per Pedro Acosta che si sta risollevando e prendendo confidenza in questa categoria molto complicata a differenza della Moto3 che l'anno scorso dominò praticamente a mani basse e terzo posto ancora una volta per Jake Dixon pilota inglese del team Aspar che anche l'anno prossimo potrebbe essere uno dei principali contender al titolo 2023 per quanto riguarda invece i contender al titolo del mondo 2022 anche qui accade qualcosa di importante perché cade Augusto Fernandez Guerra che era in seconda posizione agile o meglio terza dietro a Pedro Acosta peccato però che nell'ultima curva di Phillip Island la stessa di Quartarò cade Augusto Fernandez e anche qui è uno zero pesantissimo in ottica del mondiale perché Fernandez era in testa alla corsa al mondiale 2022 Ogura era in una giornata no ma appunto il giapponese arriva al traguardo arriva vero undicesimo ma questi punti sono importantissimi per arrivare in testa al mondiale Ogura è a 242 punti contro il 288,5 di Augusto Fernandez in un mondiale Moto2 che non vede dei talenti pazzeschi a giocarsi il titolo del mondo ma vede due piloti molto costanti che hanno vinto lo stesso numero di gare e i piazzamenti fanno veramente la differenza il distacco prima di questa gara tra Fernandez e Ogura era di un punto e mezzo adesso i punti sono 4,5 di vantaggio rispetto a Fernandez su Ogura Ogura che avrebbe la chance entro Valencia perché non vedo a meno di capitomboli incredibili che a Sepang possa già vincere il titolo il pilota asiatico di appunto tentare di chiudere il mondiale Moto2 che se non sbaglio non sia mai stato vinto da un pilota giapponese che comunque ricordiamo Ogura l'anno prossimo rimarrà a prescindere da questo mondiale in Moto2 che lo vinca oppure no mentre Fernandez andrà in modo GP al posto di Remy Garner mentre appunto Fernandez ha dovuto abdicare a questa gara ma comunque già settimana prossima si corre a Malesia si corre a Sepang per vedere che mondiale verrà deciso se quello Moto2 quello MotoGP magari entrambi e rendere semplicemente la gara di Valencia una passerella prima della fine della stagione in ogni caso arriverà puntuale il Racing Podcast anche per la MotoGP nel prossimo weekend un weekend che sarà pieno di eventi motoristici perché parliamo della Formula 1 a Austin della Superbike a San Juan Argentina e ovviamente della MotoGP a Sepang nel mentre ci sono anche i playoff del baseball dove lì vi invito ovviamente a seguirmi perché martedì alle 19 uscirà il nuovo episodio della Road to the World Series in ogni caso tantissimi appuntamenti sul canale sportivo di cui vi invito sempre a seguirlo con molta attenzione e saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo in prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti